Salve Toasters e bentornati a New Super Mario Bros. U Oggi faremo gli ultimi 4 livelli della Super Star Road Bene, partiamo subito con Terrore sulle Pietre Rotanti Vi ricordate niente di questo design? Eh già, sono molto contento che l'abbiano messo anche in un altro livello Wow, stavo per perdere già Yeeey, i corno L'e corno vi serve per alcune monete mi pare Stella è sottinteso Nonno, non tre acorn Certo che mi piacerebbe sentire un overworld normale piuttosto che la ossa e le casei fantasmi Niente Ah, ecco Saltiamo al momento giusto Ora Qua non c'è niente E i corno Qua non c'è niente Ah, c'era qualche moneta Ecco la seconda Ecco la seconda Moneta stella What the fucking Porco Andy Lee Porco Andy si Non cantare Non cantare Dani Please Pro gaming ancora eh Pro gaming Dani eh Pro gaming Ok Grazie Ok Non perdere un'altra volta Va bene 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 tizio Va bene Va bene voce idiota che ho appena iniziato a fare Ok Qua sotto C'è un tubo segreto Che porta alla terza moneta Come si fa a prenderla Facendo salto a pareti Tra Salto a pareti Perché le pareti Ah giusto Le pareti sono di più Quindi è giusto Salto a pareti Eh Tra quei due cosi È molto più comodo con lo squirrel Che si può appendere Chiaramente Ora qua Aspettiamo 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 Uh è piccolo Aspettiamo Ok Finally Comunque qua Se vi interessa C'è un Un'aliana Che Vabbè Dovrebbe andare sopra Sapete però Si è infilata dentro Il coso avvelenato Qua c'è un Un ritratto di Bowser Jr Stupendo Più bello è quello di suo padre Anche se sembra più stupido Effettivamente Ok Fuck yes Uh anche la torre È epica È tutto epico In questo genere di livelli Ok rubi delle varie infocate Cosa ho detto Boh Questo è il livello All'aperto Però con la host Che non c'entra molto Vabbè Vabbè È molto difficile Come livello La terza moneta è L'inferno Ok La prima bene o male È facile Bene o male Es No Vabbè facciamo così Ok Grazie Ok la prima parte di livello È fatta Ma la seconda La seconda La seconda La seconda Stavo dicendo La seconda parte di livello È È traditrice Lo vedrete Ok E là sotto in tanto C'è la seconda C'è C'è un tubo Per la seconda Che sembra difficile Ma non lo è Anzi è anche divertente Questo è facile Ma la terza È la terza È la terza È la più difficile Del gioco Secondo me No non è la più difficile La più difficile Del gioco È nel prossimo livello C'è nel prossimo Del prossimo Eh ok Nel prossimo Nel prossimo Nel prossimo Ok Vabbè insomma Nel ottavo Avete capito Questo è il Non c'è scritto Ok Allora Non vi danno la mezzavia E qua ci sarebbe stata Comoda la mezzavia Invece non ve la danno Quindi qua È un posto abbastanza sicuro Per pensare Per riflettere Per respirare Poi quindi non lo è più Ora sì Ora posso respirare Grazie Ora Ora Ok No 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 Ok Posso di respiro Posso di respiro Posso di respiro Posso di respiro Ora Ora la La Agognata terza moneta È qua Ma guardate un po' Guardate un po' È da odiare Seriamente Perché Se passate Dovete saltare Subito Capite Capite È difficilissima Tanto Tanto ora Perdo No Non perdo Non devi perdere Tani Non devi perdere È il tuo primo tentativo Cribbio Ce la puoi fare Non mi fido Qua subisco danno Ho paura Ok Dov'è che subisco danno? Giusto per poter respirare E abbattere questo Buzzy Beetle Rompipalle Ok Cioè Non c'è bisogno Dai Allora Dunque Non mi colpisce qua Vero Sì vabbè Allora vai a cagare Seriamente Ok I did it Primo tentativo Sì Programmatori Posso respirare Mario Calma Ti cuore Per favore Non battere A mille Da fuck Per un livello Tutte ste robe Hai problemi Dani Citazione di un tizio In un commento Sotto questa parte Lucky tu Lucky tu Lucky tu Mi ricorda Tank Tank E E E what? Vabbè Continuiamo così Dai Questo riello È Forse Forse Il più Semplice Di questi Otto Lo dico Seriamente Allora Prendete questo Koopa È anche Molto Rilassante C'è C'è l'atletico Ma non è Platforming Hardcore Ora c'è l'atletico Lucky tu Lucky tu Vi serve Quindi Potremmo prenderlo Da qua Tanto qua Vi danno il fiore Giusto per Farvelo sapere Ok Via Cupistrici Non è Allora Sì 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 Ah Così Non è Così Sì 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 Ok Ok presa la nuvola lakitu e ora let's party no semplicemente sfrutto la nuvola lakitu per prendere un altro lakitu e dire te perché lo fai perché poi è difficile prenderla quindi facciamo così lo cambio java se ce la faccio quindi please dammi la tua nuvola ok ok un altro ne voglio non si sa mai sai questa what ho preso quella sbagliata ok lakitu dammi la tua nuvola ok anche tu anche tu grazie facciamo un altro cambio perché no ok meglio cambiare sempre non si sa mai non ci arrivo là ok un altro questo è l'ultimo lo prometto vediamo se ce la faccio no non ce la farei allora un altro ok ok dai se lui riesce a seguirmi fino a là magari cambio un'ultima nuvola magari tu ok grazie scendete qua sotto e c'è la terza moneta e c'è anche uno switch da colpire che non è obbligatorio chiaramente cioè qua vi danno una vita yeah è la prima volta che prendo tutte le monete blu ok yes c'è da tre da tre 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 bene molto bene davvero molto molto bene adesso i miei cari toaster faremo il livello più difficile del gioco chiamatosi castello dei mazzapendoli castello dei mmm cerchiamo di non dire certe offese ad Andy ecco allora questo castello è un castello you don't say lo so lo so you don't say però è fatto di sti mazzapendoli che dovete evitare c'è un modo per farlo però è difficile se mi dovete fare così dovete cadere e risaltare e stessa cosa dovete fare qua per evitare il mazzapendolo io lo faccio così sveltamente perché ci sono abituato però a voi potrebbe creare qualche problema a me all'inizio non saprei quante vite ho perso tipo 40 soprattutto per la seconda moneta allora questa parte facciamo così ora qua pausa e scendiamo ok altra pausa la prima moneta potete notare che non è difficile ora eh no facciamo l'altra parte ok anche questa è fatta fuck yes ora facciamo anche questa dai ok corsa 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 ok this tube o direte questo tubo o direte fino alla morte questo tubo come va affrontato come va affrontato questo livello come come allora scendete qua sotto avanzate abbiate calma cioè non ha senso non ha senso andare di fretta perché perdete soltanto poi mettetevi qua e andate di fretta verso di là non è semplice forse posso fare così forse yes allora adesso qua c'è la stella e dovete prenderlo con la stella non è l'unico modo potete utilizzare anche l'api acorn però è molto difficile vi avviso yes ok avete la stella correte correte finchè potete correte correte fatelo per me fatelo per me non fate i miei stessi errori allora adesso è vietato perdere vero Dani altro che Kaizo ok ma yes ok basta che non mi beccano qua ok ora dov'è la terza moneta? ah si si lo so lo so lo so non preoccupatevi ho sbagliato ho sbagliato non avrei dovuto non avrei dovuto non avrei dovuto non avrei dovuto fai Dani fai Dani fai così non arrenderti ce la puoi fare yes no no non posso fare questo errore così stupido no no non posso non ci credo ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato oh mio oh mio Dio oh mio Dio oh mio Dio si è lodato il Dio dei Toast si si porquenni si 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 adesso puoi accedere al livello finale è stata aggiunta una quarta stella al tuo file oh my oh my fucking ok è la fine siamo quasi alla fine prossima volta sotto con i gusci grazie per l'attenzione e alla prossima bye scusate ma molto probabilmente non metterò le scene tagliate perché sono tantissime ci avrò messo un'ora a fare questo livello me ne dispiace bye bye